Buonasera, anche questa sera è possibile riuscire ad avere degli ECM dopo la partecipazione. Ricordatevi che la compilazione del questionario di apprendimento sarà possibile al termine dell'evento fino a mezzanotte del 14 marzo. La cosa importante è che poi possiate rispondere a tutte le domande. C'è solo una possibilità di ripetizione del questionario, però normalmente mi sembra che dalle valutazioni che abbiamo fatto, statistiche, sono pochissimi i colleghi che non riescono a rispondere a tutte le domande. Va bene, allora do subito la parola alla dottoressa Descalzi. Buonasera a tutti, mi chiamo Alessandra Descalzi, lavoro nella senologia chirurgica del professor Veronesi. e questa sera vi rubo poco tempo, abbiamo portato qua degli esperti come il professor Veronesi e la dottoressa Mazza a parlare di un tema quanto mai attuale, quanto mai frequente sui giornali e quindi mediaticamente importante in quanto statisticamente importante. E proprio stasera farò questa breve introduzione a livello epidemiologico. Allora, questi sono gli ultimissimi dati sul tumore della mammella, infatti nel 2023 sono state estimate 55.900 nuove diagnosi di tumore del seno con una mortalità nel 2022 di 15.500 decessi. Ovviamente le stime dei decessi per il 2023 non sono ancora disponibili. Un dato incoraggiante sicuramente è che la sopravvivenza a 5 anni per il tumore della mammella è dell'88% e superato il primo anno dalla diagnosi abbiamo un 91% di sopravvivenza. Questo ovviamente senza parlare dello stadio di malattia e delle caratteristiche del tumore specifico, quindi stiamo parlando di dati molto generici. Quello che stasera mi piace sottolineare e sul quale mi piace ribattere è che abbiamo un'enorme prevalenza di questa patologia che comporta una vera e propria tribù di 8.342.000 donne viventi in Italia con diagnosi di tumore della mammella. Va bene, chiaramente lo sappiamo tutti che il tumore del seno è il tumore più frequente nella popolazione femminile. Infatti con le 55.900 diagnosi il tumore del seno è il 30% dei tumori nella donna. Quindi stiamo parlando di un tumore frequentissimo. È proprio per questo che le campagne di sensibilizzazione sono state enormi negli ultimi anni. Abbiamo varie fondazioni e l'impegno durante il mese di ottobre principalmente è mediaticamente per le campagne di raccolta fondi importantissimo. Ci sono tantissimi personaggi famosi che si spendono di modo tale da sensibilizzare la popolazione femminile a fare screening e prevenzione. E al contempo la ricerca è supportata fortunatamente da tantissime iniziative diverse. Proprio perché stiamo parlando del 30% dei tumori all'interno della popolazione femminile. Quindi abbiamo un'incidenza importantissima. Allora, per scendere un po' nello specifico appunto parliamo dell'incidenza. L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro di Lione e l'European Network of Cancer Register hanno recentemente usato i dati dei registri di tumore della popolazione per fare una stima sino al 2040. Questo all'interno dell'Unione Europea e quindi dei nostri stati e l'incidenza fino al 2040 di tutti i tumori sia a livello della popolazione maschile sia a livello della popolazione femminile è in incremento. Si parla che abbiamo un incremento annuo nella popolazione maschile di più 1,3% all'anno mentre nella popolazione femminile dello 0,6% all'anno. Questo appunto per quello che riguarda tutti i tipi di tumore. Per scendere più nello specifico per quanto riguarda il tumore della mammella invece abbiamo un incremento annuo dello 0,2%. Quindi i motivi non sono fonte di disquisizione questa sera del perché l'incidenza sia in aumento ma è un dato assolutamente preoccupante e che richiama la nostra attenzione. La notizia positiva è che la mortalità per il tumore del seno invece è in calo. Quindi per quanto riguarda le diagnosi attese cioè la mortalità attesa la mortalità è minore ogni anno di più. Quindi sebbene l'incidenza sia in aumento la mortalità grazie agli sforzi di noi tutti oserei dire è in diminuzione. E' interessante vedere come nel 2018 e nel 2019 la mortalità fosse in riduzione su tutte le fasce di età salvo le over 75. Questo è un dato che può far riflettere sull'aumento della sopravvivenza delle persone sulla diminuzione dello screening e quindi questo è qualcosa sul quale bisognerebbe un po' pensare nella nostra pratica clinica anche al di là dei 75 anni visto che l'aspettativa di vita media è in aumento. Va bene, vi faccio questo discorso che è un po' filosofico e ha un riscontro clinico e pratico molto importante. 20 anni fa noi pensavamo che il tumore oppure il tumore era un male incurabile e quindi chi si ammalava era paziente per il resto della vita. Non c'era un concetto di sopravvivenza di guarigione, di scavallamento della malattia di superamento di questa fase del tumore e quindi il concetto di lungo sopravvivente oncologico negli anni 90 era molto in divenire tant'è che se noi intendiamo come lungo sopravvivente qualcuno che sopravviva oltre i 5 anni dalla diagnosi di tumore se negli anni 90 avevamo già metà della popolazione che sopravviveva a una prima diagnosi di cancro nel 2006 questa popolazione era in aumento. Questo per dire cosa? Che nel 2020 3,5 milioni di persone avevano avuto una diagnosi di tumore ed erano guarite. Ma che cosa intendiamo per guarigione? Il concetto di guarigione è molto difficile. Guarigione vuol dire non avere più il tumore o guarigione vuol dire non avere più neanche le conseguenze del tumore perché anche questo è qualcosa che andrebbe analizzato nel senso che non essere in terapia non vuol dire poi non dover fare una riabilitazione per il tumore. Il concetto di guarigione nello stato così più comune vuol dire riacquisire la salute. E per chi ha avuto una diagnosi oncologica riacquistare la salute è un concetto un po' generico vuol dire stare bene sentirsi bene questo nel senso più comune più popolare del termine. Oppure aver trascorso X anni a seconda ovviamente del tipo di tumore di cui stiamo parlando se parliamo del seminoma stiamo parlando di un anno se stiamo parlando del tumore della mammella lo vedremo cambia tra tipo di tumore e fascia di popolazione che si ammala. Quindi quanti anni devono passare perché la persona si possa definire guarita? Oppure non possiamo mai parlare di guarigione il malato oncologico lo rimarrà per tutta la vita. A tutte queste domande ci aiutano due indici più razionali che cos'è la probabilità di guarigione? La probabilità di guarigione si riferisce al fatto di non morire per quella patologia quindi con questa bella definizione la guarigione si riferisce solo alla malattia originaria indipendentemente da qualsiasi potenziale o presente disabilità o dagli effetti collaterali del trattamento. Disabilità e effetti collaterali vi parleranno estesamente dopo perché tutto quello che noi facciamo ai pazienti oncologici per farli guarire dal tumore implica anche una disabilità a lungo termine. La probabilità di guarigione ad oggi la possiamo stimare nel 40% nella popolazione maschile e addirittura nel 50% nella popolazione femminile. Questo ovviamente sia in Italia che in Europa stiamo parlando di dati nostri non di dati mondiali. Quindi insieme alla probabilità di guarigione per definire che cos'è una guarigione esiste anche un altro dato cioè il tempo per raggiungere quello stato chiamato guarigione. Quindi quanti anni sono necessari ai pazienti per raggiungere un'aspettativa di vita paragonabile a una persona che non si è ammalata? C'è una piccola vena utopistica in realtà chi ha avuto una diagnosi di tumore non avrà mai esattamente una sopravvivenza identica proprio per quello di cui parlavamo prima cioè le cure oncologiche hanno comunque un'incidenza sull'aspettativa di vita. Vogliamo dire che il tempo per essere guariti dal tumore della mammella è 10 anni. Questo però è valido solo nella popolazione tra i 45 e i 64 anni perché se la diagnosi invece insorge precedentemente quindi sotto i 45 anni oppure sopra i 64 anni la paziente viene definita guarita quando passano 15 anni dalla malattia. Tutto questo per dirvi che il tumore della mammella è una malattia molto eterogenea e l'età di insorgenza incide anche su quello che poi saranno i follow up successivi. Ci tenevo tanto stasera a parlare che a sottolineare che la guarigione dal cancro è un concetto in continuo divenire e non deve essere uno stigma che è indissolubilmente associato al tumore e quindi alla morte. questo lo abbiamo letto ampliamente ultimamente su quella che è la legge sul diritto all'oblio oncologico che finalmente è stata siglata. Bene per essere per fare un pochettino di quella che è la strada che ci ha portato a questi dati di riduzione di mortalità partirei un po' storicamente dall'anatomia patologica quindi il tumore da dove arriva quando abbiamo fatto la diagnosi di tumore prima la prima diagnosi di tumore beh è stato necessario avere un microscopio ottico e quindi nel XVII secolo Marcello Malpighi riesce con una sistema di colorazione ematoosilina osina a farci definire quella che è la diagnosi variata dalla normalità cioè la diagnosi tumorale. e questo ci permette di identificare un tessuto sano da un tessuto malato. Ma i passi in avanti dal nostro microscopio ottico sono stati vortiginosi infatti da un aspetto appunto morfologico puro al microscopio è avvenuta quella che in istologia è stata la rivoluzione immunostochimica cioè non solo determinare se una cellula è sana o malata e quindi se è una cellula del nostro corpo una cellula tumorale no? dal quale derivano però la rivoluzione immunostochimica ci permette di andare a vedere che cosa c'è sulla cellula tumorale e quindi andare a comprendere quelli che sono i siti di legame sui quali noi possiamo andare a agire con le terapie target e non solo a determinare quello che è il cognome del tumore quindi se i malpighi ci dice che è tumore la rivoluzione immunostochimica ci dice che tipo di tumore è e questo per noi è fondamentale perché il cognome del tumore ci permette di andare a intraprendere un percorso diagnostico-terapeutico completamente differente da tumore a tumore da persona a persona sempre di più verso la personalizzazione della medicina che è un concetto abusato probabilmente usato e abusato per la quale la diagnostica molecolare ha fatto un ulteriore passo in avanti quindi sappiamo che il codice genetico è stato letto negli anni 50 ma dagli anni 50 ad oggi quindi negli ultimi 70 anni si era un po' interrotta questa ricerca adesso noi siamo in grado di arrivare in maniera più profonda a livello cellulare e andare a indagare quella che è la genomica tumorale quindi non solo quella che è l'espressione sulla cellula ma anche quello che è il genoma della cellula tumorale e questo è un valore aggiunto ancora inoltre adesso si associa l'introduzione dell'intelligenza artificiale su questa iniziamo adesso a vedere le prime associazioni dell'intelligenza artificiale con le diagnosi quindi le diagnosi assistite dal computer probabilmente la dottoressa Mazza che è molto più brava di me ne parlerà dopo di quello che sarà il futuro di questa cosa ma sarà il prossimo passo associati a tutti questi passi che vi ho detto ovviamente non si può non parlare di tumore questa sera senza parlare di test genetici e quindi di quella che è la genetica della persona che sviluppa il tumore quindi abbiamo visto come siamo riusciti a guardare quella che è la genomica del tumore ma associata ad essa esiste la genetica della persona che sviluppa il tumore ho messo qua quelle che sono le raccomandazioni dell'ASCO la società americana di oncologia che richiama l'attenzione sull'accessibilità e questo mi piace sottolinearlo dei test genetici per i pazienti il sistema sanitario deve cercare di facilitare a un malato oncologico l'accessibilità al test genetico del paziente ovviamente guidato da personale aggiornato io stessa ho dovuto aggiornarmi su quelli che sono la genetica nonostante non abbia studiato tantissimi anni fa con dei test di qualità e i geni che devono essere testati devono essere scelti non da uno stick come si possono comprare in farmacia negli Stati Uniti ma da un esperto che indirizza la persona nel tipo di analisi genetica specifica di ereditarietà ne parleranno dopo quello che mi vorrei sottolineare è come i tumori ereditari quindi quelli che hanno una mutazione patogenetica sottostante sono circa il 10% noi stasera invece li trattiamo tutti ed è importante discernere il tumore ereditario dalla predisposizione familiare vi lascio con un'ultima cosa che è un po' una riflessione e che è questo studio questo studio grella che ha analizzato l'incidenza e l'età di incidenza del tumore della mammella questo noi lo vediamo un po' nella pratica clinica ed è qualcosa che ci preoccupa nel senso che l'età di insorgenza del tumore della mammella è in diminuzione il miglior articolo che ha che è uno studio multicentrico è questo e dice che abbiamo un'incidenza in aumento come abbiamo visto prima ma l'incidenza maggiore ce l'abbiamo nella fascia di popolazione più giovane e quindi non ci possiamo dimenticare di queste donne io vi ringrazio faccio parlare il professor Veronese sembra che anche la relazione della dottoressa Descalzi è stata ricca di spunti e di riflessioni soprattutto verso la fine questa vicenda della possibilità di fare test genetici quindi come viene vissuta questo rischio che in qualche modo la donna in cui la donna viene a conoscenza adesso do la parola al professor Veronese la relazione del professor Veronese è dalla prevenzione ai centri di senologia stili di vita screening imaging e il team multidisciplinare grazie questa sera ad ascoltare ad ascoltare noi parliamo di prevenzione diagnosi precoce e qualche cenno anche di terapia del tumore della mammella i numeri li avete già visti con Alessandra il tumore più frequente in assoluto nella nostra popolazione dato particolarmente interessante se consideriamo che colpisce solo metà della popolazione solo la parte femminile quindi il rischio praticamente per ogni donna di sviluppare questa malattia è di circa uno su otto uno su nove quindi un rischio molto molto importante quindi è importante ancora più importante ovviamente fare prevenzione e noi che tipi di prevenzione conosciamo lo sapete benissimo prevenzione primaria prevenzione secondaria prevenzione primaria vuol dire rimuovere le cause di una malattia cioè evitare che la malattia si sviluppi rimuovendone le cause la prevenzione secondaria nel tumore della mammella si identifica con la diagnosi precoce cioè ridurre le possibilità di morire per una determinata malattia il problema vero è che per il tumore della mammella non conosciamo la causa mentre per altri tumori la conosciamo benissimo non so faccio degli esempi il tumore della cervice dell'utero legato all'infezione dell'HPV vacciniamo tutte le ragazze oggi è gratuito a tutte le ragazze e ragazzi anche importanti nel nostro paese quindi nell'arco di una generazione se tutti si vaccinano il tumore della cervice sparisce rimossa la causa rimossa il tumore il tumore del polmone legati al fumo di sigaretta il 90% se non si fumasse più in Italia fumano ancora 12 milioni e mezzo di persone anche qui si eviterebbe il 90% dei tumori del polmone per la mammella non è così non conosciamo una causa specifica di questa malattia sicuramente è legata molto ai nostri stili di vita sicuramente c'è un problema genetico sicuramente c'è un problema anche legato un po' alle abitudini riproduttive delle donne nei paesi occidentali e questo potrebbe spiegare perché è così aumentata l'incidenza perché continua ad aumentare e continua ad aumentare anche molto nelle donne giovani sappiamo però che ci sono alcuni fattori di rischio noti più noto è l'età più si diventa vecchi più aumenta il rischio però ovviamente questo è una cosa su cui non possiamo farci niente è un fattore diciamo non modificabile come pure la familiarità se si nasce all'interno di una famiglia con tanti tumori della mammella sicuramente si corre un rischio superiore poi naturalmente c'è anche il discorso genetico ma indipendentemente da quello si è più a rischio però anche quello ovviamente dove nasciamo non lo possiamo non lo possiamo cambiare vi sono poi come dicevamo dei fattori legati alla durata della vita fertile cioè statisticamente il tumore è tanto più frequente quanto è maggiore l'esposizione del tessuto mammario alla stimolazione estrogenica quindi tanto più è precoce la prima mestruazione tanto più è tardiva la menopausa o se la stimolazione viene proseguita dopo la menopausa in maniera artificiale con una terapia sostitutiva statisticamente tanto è maggiore in maniera reglatante però aumenta il rischio di tumore della mammella interessante da un punto di vista epidemiologico il discorso gravidanza allattamento cioè gravidanza e allattamento sono importanti per la mammella che naturalmente è stata fatta per quello per allattare i bambini e sono proteggenti cioè il fatto di avere gravidanze e di allattare i bambini protegge però protegge solo e questo è dimostrato statisticamente solo in giovane età oggi invece cosa succede che soprattutto nella civiltà occidentale giustamente le ragazze a 16-18 anni hanno altri pensieri ma anche a 20 anche a 30 che fare i figli per cui non è raro anzi direi che quasi la regola soprattutto nelle regioni del nord Italia avere anche una prima gravidanza dopo i 30 anni quando ovviamente non dà nessun tipo di protezione quindi probabilmente le vecchie generazioni le donne erano più protette perché iniziavano prima a fare i figli questo così come dato statistico generale terapie ormonali durante il periodo fertile quindi banalmente la pillola anticoncezionale non aumenta il rischio quindi non ci sono timori in questo senso terapie ormonali invece sostitutive dopo la menopausa possono aumentare un po' il rischio però anche qui attenzione dobbiamo capire sempre un po' la durata della vita fertile perché se una donna va in menopausa precoce a 45 anni e fa una terapia ormonale fino a 50 allo stesso rischio di una donna che va in menopausa a 50 quindi non è la terapia ormonale di per sé che deve essere considerata quanto un po' la durata totale di questa esposizione agli estrogeni che in qualche maniera stimolano la proliferazione cellulare ovviamente aver avuto già un tumore della mammella espone a un rischio maggiore di poterne avere anche uno sull'altro seno o anche sullo stesso seno e invece quello su cui noi dobbiamo agire possiamo effettivamente farlo sono gli stili di vita cioè i nostri comportamenti perché anche lì sappiamo benissimo che attività fisica alimentazione astensione dall'alcol fumo anche c'entra anche lui sono sicuramente importanti da un punto di vista della prevenzione dicevamo delle famiglie le famiglie sono esistono delle famiglie ad alto rischio esistono delle famiglie in cui vi è proprio un alto rischio anche di trovare una mutazione genetica predisponente al tumore della mammella e o al tumore dell'ovaio tipicamente in queste famiglie il tumore insorge in età più precoce rispetto al solito può essere multifocale bilaterale e in queste famiglie normalmente vi sono almeno tre casi di tumore della mammella e o dell'ovaio quando si incontra una situazione di questo genere noi possiamo proporre naturalmente un test genetico alle nostre pazienti che naturalmente in questi casi viene anche passato tra virgolette dal sistema sanitario nazionale però gli stili di vita rimangono importanti si è calcolato che praticamente un terzo di tutti i tumori quindi parliamo di forse centomila tumori all'anno nel nostro paese potrebbero essere evitati attraverso corretti stili di vita ovviamente più importante il tabagismo il fumo di sigaretta predispone non solo al tumore del polmone ma anche al tumore della vescica a tutti i tumori delle vie respiratorie e del cavo orale ma anche in misura minore ovviamente al tumore della mammella un eccesso ponderale che poi naturalmente si associa solitamente anche a uno stile di vita più sedentario a una minore attività fisica sicuramente correla con un aumento di rischio di tumore della mammella una scarsa assunzione di tumore di tumore in generale queste sono regole che valgono un po' per tutti i tumori quindi scarsa assunzione di vegetali frutta e verdura mentre magari un eccesso di grassi animali aumenta il rischio una vita sedentaria aumenta il rischio un consumo di alcol e qui si è visto per il tumore della mammella che soprattutto che anche un consumo di alcol eccessivo nelle ragazze giovani magari tipicamente durante il weekend molto spesso i ragazzi anche molto giovani fanno un uso eccessivo di alcol poi si associa invece in età più tardiva a un aumento di rischio di tumore della mammella questo è quello che dicevamo prima quindi verdure e frutta sono protettive mentre grassi animali aumentano il rischio attività fisica importantissima un'adeguata attività fisica riduce gli stati di infiammazione rafforza il sistema immunitario e riduce il rischio di alcuni tumori in particolare il tumore dell'endometrio lo riduce del 40% e mentre si calcola un 12-14% di riduzione del rischio di tumore della mammella anche nelle pazienti già operate questo è importante l'attività fisica riduce il rischio di recidiva questo infatti vediamo che tante associazioni di donne operate al seno propongono partecipazioni agli sporti più svariati più semplice camminare o correre addirittura nella nostra fondazione abbiamo questo progetto che si chiama pink ambassador di donne operate al seno o anche altri tumori femminili che si allenano per fare mezzo maratone o anche maratone intere di 42 km di donne che prima di allora non avevano mai mosso un muscolo quindi per dire come a volte dopo l'intervento ti può cambiare la vita abbiamo parlato della prevenzione primaria parliamo di quella secondaria che è quella più comune che tutti conosciamo perché vuol dire ridurre il rischio di morire per una determinata malattia nel tumore della mammella si identifica con la diagnosi precoce tumore di piccole dimensioni guarisce sempre meglio di un tumore di dimensioni maggiori e oltre a ridurre la mortalità una diagnosi precoce consente naturalmente un intervento chirurgico meno invasivo e quindi naturalmente una migliore qualità di vita per le donne operate innanzitutto diciamo subito che nel nostro paese si guarisce meglio di tumore rispetto agli altri paesi europei mediamente e quindi diciamo il nostro sistema sanitario funziona molto bene in particolare per il tumore della mammella allora innanzitutto dobbiamo però chiarire la differenza che c'è tra lo screening mammografico e la prevenzione invece strumentare del tumore della mammella lo screening mammografico è uno strumento importantissimo socialmente importantissimo riduce del 35% la mortalità nel tumore della mammella anche chi partecipa a questo screening però è uno strumento offerto dal sistema sanitario regionale gratuitamente a tutte le donne ma solo in una determinata fascia di età dai 50 ai 69 anni in alcune regioni si parte si partirà o si parte dai 45 ma tutte le donne più giovani sono escluse poi lo screening prevede normalmente solo la mammografia mentre noi sappiamo vedremo che altrettanto importanti sono l'ecografia o anche altri esami diagnostici non c'è un medico che fa questo esame viene fatto da un tecnico quindi non c'è nessun contatto fisico tra la donna e il medico quindi non può neanche dirgli se si sente qualcosa non c'è nessuna visita nessun esame clinico quindi lo screening mammografico come proposto dal sistema sanitario è importantissimo naturalmente perché poi molte donne aderiscono e scoprono la malattia ma in Italia l'anno scorso più di 10.000 donne hanno scoperto la malattia con lo screening mammografico però non è sufficiente per la singola persona per fare prevenzione quello che consigliamo noi è di cominciare prima naturalmente a 40 anni con mammografia da fare una volta all'anno o al massimo ogni due anni di associare l'ecografia soprattutto nelle ragazze giovani la mammografia è molto utile però innanzitutto è molto utile se la mammella è prevalentemente o parzialmente adiposa nella mammella molto densa molto ricca di tessuto ghiandolare come tipicamente nelle ragazze giovani la mammografia può non vedere niente del tutto e tra l'altro se una donna va a fare uno screening ha una mammografia completamente radiopaca il radiologo non vede niente perché poi questa mammografia viene letta dopo 15 giorni da un radiologo anzi da due radiologi non vede niente e quindi ti manda una risposta che è negativa in realtà la risposta dovrebbe essere diciamo non diagnostica cioè dovrebbe essere un consiglio di fare ulteriori esami perché la mammografia non permette di vedere niente e invece arriva una risposta negativa per cui la donna magari si tranquillizza quando magari invece ci può essere un problema quindi può avere una sensibilità molto alta soprattutto per le calcificazioni però ecco non è un esame sufficiente invece l'ecografia è un esame assolutamente oggi molto più diffuso che in passato complementare alla mammografia quindi non va a sostituire la mammografia ma va spesso utilmente ad affiancarla ripeto soprattutto nelle donne giovani per cui noi consigliamo magari di cominciare già a 35 anni con un'ecografia periodica nelle donne tra l'altro invece ad alto rischio per familiarità o addirittura per mutazione genetica conviene iniziare ancora prima già a 30 anni ed affiancare anche eventualmente una risonanza è molto utile nel seno invece ghiandolare nel seno molto denso dove la mammografia non vede niente invece l'ecografia permette di vedere bene perché il seno denso riflette bene gli ultrasuoni e quindi consente di vedere se c'è una qualche lesione che assorbe invece questi ultrasuoni mentre la mammella molto adiposa gli ultrasuoni sono poco utili e quindi è un esame che si può anche evitare parlavamo di screening e proprio noi come fondazione l'estate scorsa abbiamo fatto una piccola indagine su mille donne con interviste online per capire se sapevano che cos'era lo screening mammografico che cos'era la prevenzione le risposte le vedete un quarto delle donne ha detto che non sa neanche di che cosa si tratta qualcuna ci ha azzeccato mammografia ogni due anni il 40% però insomma comunque più della metà non aveva idee precise su che cosa fosse lo screening mammografico e tra l'altro andando a chiedere perché non aderivano allo screening mammografico perché tutte le donne vengono invitate a fare lo screening dai 50 anni in poi e cosa succede che nel nostro paese la risposta è circa del 50% di adesione se andiamo in Danimarca in Finlandia nei paesi nordici siamo dall'80 all'83% di adesione quindi in Italia ancora molte donne non fanno la mammografia e gli abbiamo chiesto perché non fate la mammografia un quarto ha detto banalmente perché non gli è arrivata la lettera quindi c'è un problema ancora organizzativo importante però vedete alcune risposte curiose per paura dell'esito cioè una donna su 10 non ci va perché ha paura che si trovi qualche cosa e quindi dovrà fare delle terapie per dire proprio il contrario di quello che dovrebbe essere perché se trovi qualcosa di piccolo ovviamente fai meno terapie che si trovi qualcosa di più avanzato e quindi la paura e la disinformazione ancora giocano un ruolo importante parlavamo dell'aderenza agli screening vediamo quindi quasi il 50% nel nord Italia nel 2020 gli screening si sono praticamente interrotti a causa del covid però vedete che nelle regioni del nord Italia siamo sopra il 60% il 63% man mano che si scende al centro intorno al 50% al sud Italia poco più del 20% di aderenza agli screening mammografici quindi abbiamo un problema ancora diciamo culturale che dobbiamo sanare nel nostro paese se vogliamo migliorare la prevenzione quello che abbiamo capito è che la prevenzione non può essere uguale per tutti ma deve essere personalizzata cioè siccome le donne ovviamente non sono tutte uguali le mammelle non sono tutte uguali quindi noi dobbiamo capire per ogni donna innanzitutto che rischi corre quindi fare un profilo del rischio in base alla sua storia familiare e personale e poi dobbiamo vedere facendo degli esami di base una mammografia o un'ecografia che tipo di ghiandola mammaria abbiamo di fronte quindi quale può essere per quella donna il percorso migliore se fare la mammografia tutti gli anni o se magari la mammografia serve a poco fare più ecografie affiancare se necessario la risonanza magnetica quindi diverse sono le armi che abbiamo a disposizione per fare una diagnosi precoce dobbiamo capire bene come usarle non usarle a sproposito fare la mammografia una ragazza giovane non vedi niente e magari somministri anche delle dosi di radiazioni gratuite quindi è importante che questo percorso sia personalizzato noi abbiamo fatto banalmente sempre come fondazione Veronesi uno studio che abbiamo chiamato PINC che ha coinvolto 50.000 donne o che deve coinvolgere 50.000 donne nel nostro paese presso centri radiologici ospedalieri o anche sul territorio quindi proprio così come avviene normalmente la prevenzione che le donne fanno spontaneamente e abbiamo visto nelle prime 30.000 donne reclutate che per esempio associando l'ecografia alla mammografia di routine abbiamo avuto un 22 23% in più di diagnosi di tumore della mammella rispetto alla sola mammografia cioè pazienti che hanno fatto la mammografia non si vedeva niente con la mammografia con l'ecografia fatta nello stesso momento si è migliorata la diagnosi precoce di quasi un quarto delle donne è naturalmente la diagnosi precoce che ovviamente dipende dal corretto utilizzo delle metodiche diagnostiche che consente naturalmente una chirurgia più mirata e qui veniamo alla seconda parte della relazione di oggi una volta tutti i tumori venivano scoperti quando non c'erano gli esami diagnostici dalla donna o dal medico attraverso la visita perché si trattava di tumori di una certa dimensione dagli anni 70 è nata la mammografia quindi si sono cominciati a vedere tumori in fase precoce non palpabili negli anni 90 è nata l'ecografia quindi oggi abbiamo praticamente nella nostra esperienza un terzo dei tumori che arriva alla nostra attenzione in fase preclinica cioè prima che si possano sentire con la visita scoperti solo dagli esami diagnostici che sono appunto l'ecografia dicevamo la mammografia che oggi possiamo fare anche anzi di regola viene fatta in tre dimensioni che si chiama tomosintesi e questo ci consente una migliore risoluzione possiamo vedere attraverso la ghiandola mammaria è non solo tutto proiettato su un piano bidimensionale in alcuni casi la risonanza magnetica non a tutti non è un esame che viene fatto di routine per prevenzione perché naturalmente è un esame a parte costosa che utilizza il mezzo di contrasto e poi è un esame che ha ancora molti falsi positivi cioè se noi facessimo la risonanza a tutti praticamente troveremo un sacco di situazioni dubbie che poi porterebbero a biopsie inutili insomma aumenteremmo le preoccupazioni in maniera ingiustificata però ci sono dei casi in cui la risonanza magnetica invece trova indicazioni soprattutto per dirimere risultati magari incerte delle altre metodiche diagnostiche oppure in casi particolari dove si cura oggi il tumore della mammella nel nostro paese dovrebbe essere così in tutta Europa si cura presso i centri di senologia le cosiddette breast unit e questo è importante perché rivolgendosi a queste breast unit noi possiamo migliorare la sopravvivenza delle pazienti migliorare la qualità di vita perché praticamente c'è un'equipe pluridisciplinare che quindi non comprende solo il chirurgo che una volta faceva tutto oggi ovviamente il chirurgo perché senza il chirurgo non si può la prima figura normalmente che vede la paziente a cui è stata fatta una diagnosi però insieme al chirurgo abbiamo l'oncologo medico abbiamo un radioterapista abbiamo un radiologo ovviamente che fa la diagnosi abbiamo un otomopatologo un psicologo importantissimo che dà il supporto che serve alle pazienti il fisioterapista abbiamo tutta l'equipe che serve per curare in cui la donna sta al centro e che tutto intorno sono tutti gli specialisti che ruotano per garantire a queste donne a tutte le nostre pazienti naturalmente i migliori standard di cura che in questa maniera riusciamo a ottenere una presa in carico totale per cui non deve essere più la paziente che va a cercarsi il medico di vari specialisti in un ospedale o in quell'altro ma viene presa in carico totalmente dalla breast unit questo ci consente anche naturalmente l'accesso a terapie innovative perché il tumore della mammella è uno dei tumori anzi direi che è il tumore in assoluto dove viene fatta più ricerca nel mondo e quindi ogni anno vengono proposti anche farmaci nuovi o combinazioni di farmaci nuovi di cui poi vi parlerà penso la dottoressa mazza che mi seguirà e questo però lo possiamo fare naturalmente all'interno di una breast unit addirittura si calcola che curandosi presso una struttura dedicata a una breast unit si migliorano le possibilità di guarigione del 15-20% rispetto magari all'ospedale sotto casa dove magari c'è pure un chirurgo bravissimo però da solo non è in grado di garantire il miglior percorso terapeutico per le donne nel nostro istituto l'istituto europeo naturalmente questa breast unit si chiama in realtà programma di senologia questo è il nome che viene dato a tutti i dipartimenti d'organo in istituto e quindi abbiamo tutte le varie divisioni che afferiscono quindi la chirurgia senologica la chirurgia plastica importantissima per garantire sempre il migliore risultato estetico e la migliore qualità di vita alle donne l'oncologia medica dedicata solo alla senologia che abbiamo e poi tutti gli altri servizi naturalmente che intervengono in maniera trasversale cominciamo a parlare di chirurgia per andare verso la conclusione dicevamo prima che oggi abbiamo un numero sempre maggiore di lesioni non palpabili da curare quindi la diagnosi viene fatta prima dell'intervento grazie alla diagnostica mininvasiva con agobiopsie o vacuum assist quindi con queste riusciamo oggi ad avere una diagnosi quindi cerchiamo in tutti i modi di evitare interventi chirurgici diagnostici come si faceva un tempo quindi ci limitiamo a interventi terapeutici però per una lesione di piccole dimensioni naturalmente il primo problema è trovarla rimuoverla con margini adeguati ma in maniera che sia diciamo naturalmente minimamente invasiva quindi rimuovendo la miglior quantità possibile di tessuto sano inutilmente quindi la cosa importante in questi casi di lesioni non palpabili è una corretta localizzazione cioè noi visto che non li sentiamo dobbiamo localizzare queste lesioni con la massima precisione in modo da poter poi fare un intervento mirato normalmente qui per esempio una paziente che aveva già fatto una biopsia aveva una piccola clip quindi noi togliamo il pezzo e facciamo subito una radiografia per essere sicuri che questa clip sia al centro del tessuto asportato la tecnica che abbiamo messo a punto ormai quasi 30 anni fa si chiama ROLL che consiste nell'iniettare dove c'è la lesione all'interno della lesione usando la guida ecografica o qualche volta la stereotassi se si tratta di calcificazioni iniettando una piccola quantità di un tracciante radioattivo o meglio di un tracciante radioattivo coniugato con albumina umana delle molecole di albumina umana in modo che poi con una sonda per chirurgia radio guidata possiamo capire dove viene messo questo segnale arrivare lì e togliere in maniera precisa la parte malata in realtà oggi abbiamo anche da qualche tempo a disposizione una nuova metodica ancora più raffinata che consiste al posto di iniettare il tracciante radioattivo nel posizionare una piccola antennina una piccola antennina dentro la lesione in modo che poi abbiamo una sonda in questo caso radar che questa sonda qui praticamente con un segnale radar l'antenna riflette questo segnale radar e quindi noi possiamo andare a trovare la piccola antennina posizionata dentro la mammella questa è una paziente che aveva fatto un trattamento chemioterapico prima dell'intervento chirurgico perché oggi molto spesso il percorso terapeutico che classicamente prevedeva intervento chirurgico chemioterapia radioterapia oggi molto spesso prevede chemioterapia intervento chirurgico radioterapia per dire ci sono un po' invertiti i fattori perché molti tumori sono molto sensibili alla chemioterapia tanto che facendo questi trattamenti prima dell'intervento il tumore che era qua è sparito completamente ecco che allora noi dobbiamo se abbiamo posizionato questo piccolo reper questa antenina prima del trattamento poi siamo in grado di andare a fare comunque un intervento chirurgico mirato in questa zona perché noi comunque dobbiamo rimuovere questa parte dopo il trattamento per poterla esaminare e verificare se c'è ancora un residuo di tumore o meno perché da questo dipendono poi anche i trattamenti successivi andando a parlare di chirurgia e di terapia in generale quello che abbiamo osservato in questi anni anzi siamo riusciti a fare in questi anni perché molto devo dire è merito anche della scuola milanese di ridurre proprio sia l'entità dell'intervento chirurgico sia l'entità delle terapie post-operatorie sia mediche che radioterapiche quindi rispetto agli anni 60 e 70 siamo andati incontro a una progressiva de-escalation della chirurgia e delle altre terapie innanzitutto è nata negli anni 70 la chirurgia conservativa della mammella bisogna ricordare che fino agli anni 70 qualunque tipo di tumore del seno veniva trattato inevitabilmente con la massettomia totale l'asportazione di tutta la mammella compresa la cute il capezzolo fino a poco tempo prima anche compresi i muscoli pettorali tutti i linfonodi ascellari quindi magari si otteneva la guarigione anche perché effettivamente non c'erano molte altre terapie però certamente la qualità di vita delle donne operate non era paragonabile a quella di oggi è nata devo dire grazie a mio papà soprattutto la chirurgia conservativa negli anni 70 sono stati fatti i primi interventi lo studio poi è stato pubblicato nel 1981 e quindi da più di 40 anni si è diffusa poi in tutto il mondo la tecnica della quadrantectomia della mammella nei tumori di piccola dimensione che sicuramente avete tutti sentito nominare poi da lì siamo andati oltre naturalmente a partire degli anni fine degli anni 90 abbiamo ridotto sempre di più anche la sportazione dei linfonodi ascellari grazie alla tecnica del linfonodo sentinello la chirurgia conservativa poi naturalmente è migliorata le tecniche sono migliorate proprio grazie all'integrazione tra chirurgo oncologo e chirurgo plastico già devo dire negli anni 90 papà aveva pensato di fare una quadrantectomia bilaterale proprio per migliorare la simmetria delle mammelle non togli un pezzo da una parte togli anche dall'altra così almeno sono uguali e poi questo consentiva anche di esaminare l'altro l'altro seno quindi l'aveva chiamata mirror quadrantectomy da tutte e due le parti sia dove c'era il tumore sia dove non c'era questo poi naturalmente così è stato abbandonato però è stato un po' seme che ha fatto germogliare quella che adesso definiamo chirurgia oncoplastica che prevede l'abbinamento della chirurgia oncologica con la chirurgia plastica al fine di poter rimuovere il tumore o i tumori in maniera adeguata togliendo anche naturalmente parliamo di mammelle voluminose togliendo anche ampie porzioni di tessuto ma poi rimodellare il seno operato e modellare anche il seno controlaterale per raggiungere una simmetria un risultato simmetrico da entrambi i lati quindi quando le mammelle sono voluminose noi possiamo togliere anche ampie porzioni di tessuto rimodellare il seno per ottenere un risultato estetico addirittura migliorativo come se la donna facesse una mastoplastica riduttiva a livello estetico soprattutto per i tumori per esempio nella parte inferiore ma anche in quella superiore della mammella quindi riusciamo a avere un buon risultato estetico migliorativo rispetto al pre intervento con ottimi risultati oncologici perché questo ci consente anche asportazioni più ampie di tessuto avere un buon risultato estetico è importante per le donne perché anzitutto sposta un po' l'attenzione sull'estetica rispetto alla parte diciamo oncologica relativa alle terapie naturalmente il fatto di pensare molto naturalmente anche alla loro estetica dà fiducia alle pazienti perché naturalmente vuol dire che se uno pensa molto all'estetica come dire uno pensa vuol dire che guariscono perché certo se no nessuno ci penserebbe quindi da un punto di vista psicologico è sicuramente importante anche la chirurgia demolitiva cioè l'asportazione della ghiandola mammaria è molto cambiata in questi anni una volta come vi dicevo prevedeva l'asportazione di tutta la mammella quindi vuol dire ghiandola cute capezzolo anche i muscoli si toglievano inizialmente poi quelli non si toglievano più però oggi invece le cose sono molto cambiate sono molto cambiate nel senso che paradossalmente facciamo più mastettomie oggi rispetto a 20 o 30 anni fa 20 diciamo perché abbiamo una diagnostica più raffinata quindi troviamo più tumori magari multifocali o multicentesi che una volta magari non vedevamo perché sappiamo che ci sono delle donne ad alto rischio genetico in cui quindi ovviamente non ha senso togliere solo una parte della mammella anzi di solito vengono tolte entrambe le ghiandole mammarie ma anche perché oggi grazie proprio alla chirurgia plastica magari in donne che hanno un seno piccolo possiamo garantire un miglior risultato estetico con una mastettomia e una ricostruzione piuttosto che una chirurgia conservativa che magari poi conserva ben poco quindi se questa mastettomia che abbiamo chiamato mastettomia conservativa praticamente è il punto d'incontro tra la chirurgia conservativa in senso stretto cioè l'asportazione solo di una parte della mammella e la mastettomia perché qui viene tolta la ghiandola mammaria ma preservando quello che è il rivestimento sia la cute sia il capezzolo chiaramente non lo possiamo fare in tutti i casi lo possiamo fare se non c'è un coinvolgimento naturalmente nel capezzolo se il tumore non è troppo grosso ovviamente meglio se i tumori sono in situ oppure una tecnica che utilizziamo nelle mastettomie profilatiche perché molte donne oggi che hanno un elevato rischio genetico ci chiedono di togliere le mammelle per non correre il rischio poi di ammalarsi è chiaro che se si deve togliere il capezzolo poi lo possiamo naturalmente ricostruire però sicuramente conservare il proprio capezzolo dà una soddisfazione molto maggiore alle donne operate e questo tipo di intervento anche di nuovo ci consente un risultato estetico molto buono perché noi possiamo togliere la ghiandola in questo caso c'era un piccolo tumore insieme a di qua è stata tolta la ghiandola messa una protesi che in questo caso ha consentito di riempire anche una mammella che naturalmente era un po' vuotina e è stata messa una protesi anche dall'altra parte quindi in questo modo abbinando chirurgia estetica e chirurgia oncologica riusciamo a migliorare di molto l'estetica proprio delle donne che magari appunto non hanno più un seno in ottima forma oggi abbiamo questi sono altri risultati estetici dopo l'intervento chirurgico oggi è una tecnica che possiamo utilizzare in quasi la maggior parte dei casi non in tutti abbiamo anche migliorato le tecniche di chirurgia plastica perché tipicamente la protesi viene messa al di sotto del muscolo pettorale per dare una maggiore protezione però oggi se le donne troppo magre non lo possiamo fare ma se abbiamo un minimo di tessuto adiposo sotto cutaneo noi possiamo anche posizionare la protesi in sede prepettorale cioè davanti al muscolo pettorale questo ci consente un risultato estetico ancora più naturale rispetto al passato la nostra esperienza con questo tipo di intervento è ormai direi piuttosto ampia questo era un primo lavoro fatto su quasi 2000 pazienti con risultati estetici direi con risultati oncologici direi molto buoni abbiamo avuto una sopravvivenza a 5 anni del 96% dei casi di tumore invasivo nei tumori in situ naturalmente ancora superiore quindi avete delle curve di sopravvivenza quasi quasi piatte per dire come oggi si guarisce bene da questo tumore anche quando è in fase più avanzata tale da richiedere un intervento più demolitivo sbagliato quindi vedete sopravvivenza nei tumori invasivi oltre il 96% ovviamente quasi 100% nei tumori in situ altra cosa interessante che abbiamo sperimentato in questo tipo di intervento chirurgico di mastettomia è l'utilizzo del robot voi sapete che oggi tanta chirurgia generale viene fatta con il robot operatore quasi tutta la chirurgia oncologica quindi tutti i tumori della prostata vengono fatti con tecnica robotica molta chirurgia toracica molta chirurgia addominale noi abbiamo tre robot in istituto e abbiamo provato a fare anche la mastettomia con il robot quindi con l'operatore seduto in console la paziente a distanza con tutte queste braccia robotiche inserite attraverso un unico forellino se vi faccio vedere si fa praticamente un piccolo tagliettino nel cavo ascellare di 3 cm si mette dentro un unico port attraverso questo port si inseriscono le tre braccia del robot in questa maniera si riesce a staccare la mammella dalla pelle e dal muscolo sfilare la mammella e poi attraverso lo stesso buco il chirurgo plastico inserisce la protesi viene fatta naturalmente la biopsia dell'influenza di sentinella il chirurgo plastico inserisce la protesi definitiva quindi con l'intervento senza praticamente nessuna cicatrice mammaria solo una piccola cicatrice a livello del cavo ascellare i risultati sono stati buoni i risultati oncologici un po' prematuro perché abbiamo fatto solo un centinaio di casi però sicuramente è una cosa promettente per il futuro che abbiamo già pubblicato su diverse riviste parlavamo di linfonodi avevamo detto che una volta l'asportazione di tutti i linfonodi era un cardine della chirurgia mammaria cioè veniva sempre fatta l'intervento mastettomia o quadrantettomia e asportazioni di tutti i linfonodi ma fortunatamente a partire dagli anni 95-96 abbiamo cominciato a sperimentare questa tecnica che prevede invece di asportare solo un linfonodo al cavo ascellare in maniera mirata sempre utilizzando il tracciante radioattivo che viene iniettato nella mammella questo è il primo linfonodo che troviamo con la sonda quindi per chirurgia radioguidata comincia a emettere se nel radioattivo noi lo togliamo e lo possiamo esaminare direttamente in sede di intervento chirurgico per cui abbiamo verificato che se questo linfonodo è negativo e del tutto inutile toglie gli altri linfonodi ascellari quindi l'intervento finisce così in maniera molto meno invasiva rispetto al passato forse qualcuno si ricorda i bracci gonfi l'infedema dovuti all'apportazione dei linfonodi che in questa tecnica è un problema che non esiste più il rischio di recidive ascellari è bassissimo intorno all'1% e quindi praticamente dal 1 gennaio 2000 questa tecnica è diventata standard quindi ormai siamo a più di 24 anni che utilizziamo questa tecnica in maniera standardizzata per tutte le pazienti con tumore della mammella ovviamente se non vi sono linfonodi palpabili poi le indicazioni sono aumentate anche se abbiamo visto sempre dal nostro studio che anche se questo linfonodo sentinella è interessato in maniera parziale cioè in maniera minima con una cosiddetta micrometastasi inferiore ai 2 mm si può evitare l'asportazione di tutti i linfonodi quindi di nuovo abbiamo aumentato la quota di donne che evitano l'asportazione di linfonodi sulla differenza tra togliere o non togliere linfonodi la ricerca è andata avanti uno studio americano ha fatto vedere ormai più di 10 anni fa che se anche uno o due linfonodi sono positivi con macrometastasi in caso di chirurgia conservativa togliere i linfonodi non serve niente e quindi di nuovo tutte le donne che fanno un intervento conservativo se anche hanno un linfonodo positivo non vengono più sottoposte di sezione cellare e quindi si sveltisce tutta la procedura perché a questo punto non è più necessario fare neanche l'esame intraoperatorio dell'infonodo e questi studi hanno proprio cambiato la pratica clinica e oggi le donne che fanno una dissezione ascellare sono veramente rimaste una minoranza sono delle pazienti che invece arrivano con una malattia avanzata con tumori grossi con linfonodi interessati dalla neoplasia e con queste pazienti oggi possiamo ve lo racconterà la dottoressa Mazza fare molto spesso una terapia medica preoperatoria ci sono alcuni tipi di tumore come i cosiddetti carcinomi triplonegativi piuttosto che i tumori che esprimono un antigeno R2 o che comunque hanno un'elevata proliferazione cellulare che sono molto sensibili alle terapie mediche talmente sensibili che in una larga percentuale dei casi possono scomparire completamente con le terapie ecco che quindi se noi facciamo questa terapia e quindi il tumore sparisce o si riduce in maniera significativa e anche i linfonodi non sono più apprezzabili di nuovo possiamo applicare questa tecnica del linfonodo sentinella quindi verificare che la terapia abbia avuto successo e quindi abbia fatto diciamo sparire le cellule tumorali dal linfonodo dei linfonodi ascellari andiamo a analizzare l'infonodo sentinella questa era la nostra esperienza su 400 pazienti che hanno fatto questa terapia preoperatoria con degli ottimi risultati nel senso che è una tecnica assolutamente affidabile anche dopo una chemioterapia preoperatoria chiaramente se il linfonodo sentinella risulta ancora positivo dopo la chemioterapia viene fatta direttamente in sede nello stesso intervento l'asportazione anche degli altri linfonodi però vedete che il rischio di recidiva ascellare di nuovo è sempre inferiore al 2% anche in pazienti che prima della terapia avevano linfonodi macroscopicamente positivi quindi le raccomandazioni attuali sull'asportazione dei linfonodi prevedono in caso di chirurgia conservativa se abbiamo anche 1 o 2 linfonodi positivi di non fare l'asportazione di tutti i linfonodi ma solo il follow up se naturalmente ci sono 3 o più linfonodi viene ancora fatta la dissezione ascellare in caso invece di mastettomia se c'è una micrometastasi o linfonodi negativo nessuna dissezione in caso di macrometastasi si fa la dissezione ascellare perché abbiamo degli studi in corso sulle macrometastasi nella mastettomia ma ancora non sono completi per cui oggi la regola prevede di fare la dissezione ascellare siamo andati poi a vedere se effettivamente la biopsia di inflato sentinella fosse davvero necessaria in tutte le pazienti con un bello studio è stato l'ultimo studio pensato da mio papà che purtroppo non ha potuto vedere la conclusione che prevedeva nelle pazienti con tumori di piccole dimensioni di fare naturalmente uno studio accurato della scella anche con ecografia oltre che con la visita e poi randomizzare tra la biopsia dell'infrato sentinella che è un trattamento standard piuttosto che la sola chirurgia mammaria senza nessuna chirurgia ascellare e questo studio ha fatto vedere di nuovo che questo gruppo di pazienti anche se non si fa la biopsia dell'infrato sentinella sostanzialmente non cambia nulla a livello di guarigione di terapie e di recidive anche a livello ascellare quindi questo per dire che le cose continuano a modificarsi quindi oggi lo standard dell'infrato sentinella quando però già questo studio ci fa vedere che in futuro potremmo anche forse omettere questa pratica naturalmente a patto che la diagnosi sia precoce quindi di nuovo l'importanza della prevenzione qual è il futuro? beh dicevamo prima che molto spesso capita che con la terapia preoperatoria in tumori particolarmente sensibili il tumore sparisce quindi una prima idea è quella che se il tumore sparisce non si vede più evitare proprio l'intervento chirurgico quindi ripetere solo delle biopsie per fare un esame istologico dove c'era il tumore se queste biopsie sono negative si può evitare di fare l'intervento chirurgico altro studio che stiamo facendo riguarda invece la possibilità nei tumori di piccole dimensioni di evitare sempre l'intervento chirurgico facendo un trattamento locale con la crioablazione che questo è uno studio che in realtà stiamo iniziando adesso che prevede analogamente a quanto si fa ad esempio con le lesioni del fegato in altre sedi con solo una sonda di frizzare cioè fare una crioablazione del tumore ed evitare quindi l'intervento chirurgico sempre naturalmente a patto che il tumore sia molto piccolo quindi al di sotto di un centimetro e mezzo questo è uno studio che stiamo per iniziare questo è uno studio appunto come vi dicevo prima che prevede di fare una chemioterapia prima dell'intervento chirurgico poi ripetere una biopsia se quindi questa biopsia viene negativa si fa solo radioterapia e si evita proprio l'intervento chirurgico alla paziente anche questo è uno studio interessante per il futuro sempre nell'ottica di una minore invasività per le nostre pazienti studio in realtà esiste già uno studio pubblicato negli Stati Uniti all'MD Anderson di Houston che ha fatto vedere che appunto in casi selezionati si può evitare l'intervento chirurgico quindi noi vogliamo fare la nostra esperienza poi vi sono dei tumori per esempio molto poco aggressivi che sono i carcinomi in situ di basso grado che a volte sono delle piccole calcificazioni piccoli focolai di microcalcificazioni nella mammella scoperti solo con la mammografia anche qui vogliamo vedere se togliendoli bene con queste biopsie che oggi prevedono un'asportazione di una quantità di tessuto non indifferente potremmo evitare in futuro l'intervento chirurgico mettendo insieme diverse informazioni su queste lesioni poco invasive come il carcinoma in situ di basso grado o le proplasia duttale atipica quindi sviluppando degli algoritmi che prendono in considerazione diversi fattori noi potremmo evitare di sottoporre queste pazienti a chirurgia e mantenerle solo in follow up ultima cosa ho finito test genetici oggi una volta si dosavano solo in alcuni casi BRCA1 e BRCA2 oggi sappiamo che esistono altri geni implicati nell'aumento di rischio per tumore della mammella e dell'ovaio è chiaro che si tratta comunque di una percentuale piccola delle donne affette da carcinoma della mammella che hanno mutazioni genetiche però comunque supera il 10% che numericamente considerando i 55.000 nuovi casi all'anno vuol dire che ci sono 5.000 donne che ogni anno hanno una mutazione genetica e sviluppano un tumore della mammella quindi sono 5.000 donne che se avessero saputo prima di avere questa mutazione magari avrebbero potuto scoprire prima il tumore o l'avrebbero potuto prevenire addirittura con interventi chirurgici di riduzione del rischio quindi oggi le analisi genetiche si stanno ampliando come vi diceva prima anche la dottoressa e quindi possiamo pensare a un futuro in cui questi test che costeranno sempre meno saranno anche più diffusi rispetto a quelli che sono adesso ricordiamo che sono test importanti anche per il tumore dell'ovaio che è un tumore molto meno frequente parliamo di 5.500 casi nel nostro paese ogni anno però è un tumore in cui è molto più difficile fare prevenzione in cui la diagnosi è quasi sempre tardiva in cui sono necessarie terapie pesanti e quindi se noi sapessimo che una donna ha una mutazione genetica che è implicata in più del 20% dei tumori dell'ovaio noi potremmo rimuovere facilmente l'ovaio con un piccolo intervento in la paroscopia naturalmente è terminato il percorso riproduttivo della donna quindi dai 40-45 anni in poi ed evitare lo sviluppo di questo tipo di tumore con questo ho finito vi ringrazio per l'attenzione e adesso lascerei la parola alla dottoressa Mazza però siccome purtroppo devo scappare se ci sono magari due o tre domande le approfondiamo subito prima della relazione della dottoressa Mazza io direi se il professor Veronesi e la dottoressa Alessandra Descalzi possono rispondere a delle domande che volete porre per favore volevo chiedere se durante l'intervento si asporta solo il linfonodo sentinella come si fa a sapere se ce ne sono altri malati? non si può sapere questo il bello nel senso che noi abbiamo fatto proprio questo studio nel 1994-95 abbiamo tolto l'infonodo sentinella e abbiamo andato poi abbiamo tolto anche tutti gli altri proprio per capire se c'era una corrispondenza e c'era una buona corrispondenza il 95% dei casi se l'infonodo sentinella era negativo lo erano anche gli altri però c'era effettivamente un 5% di casi in cui il linfonodo era negativo mentre si trovava uno o due altri linfonodi positivi quindi noi ci saremmo aspettati e diceva vabbè vorrà dire che avranno il 5% delle pazienti che poi svilupperanno problemi ai linfonodi perché non li abbiamo individuati poi in realtà la clinica è diversa dall'anatomia patologica perché poi abbiamo seguito queste pazienti e dopo abbiamo smesso di togliere tutti i linfonodi pensando diceva verranno fuori un po' di pazienti un 5% comunque accettabile di pazienti che potranno sviluppare la malattia a livello ascellare invece poi dopo tanti anni abbiamo tenuto questi pazienti in controllo per 10 anni e dopo 10 anni solo lo 0,8% delle pazienti aveva sviluppato una ripresa ascellare quindi evidentemente se anche c'è qualche linfonodo grazie alle terapie che oggi praticamente fanno tutte le donne terapie mediche terapie quando occorre terapie ormonali radioterapia perché quando si fa la radioterapia parliamo di interventi chirurgici conservativi inevitabilmente oltre alla mammella si viene a radiare anche una parte più superficiale della scella quindi questo insieme di cose fa sì che se anche effettivamente questo rischio è piccolo ma esiste poi di fatto non succede praticamente quasi mai niente volevo sapere per lo screening lo screening della regione Lombardia appunto ne abbiamo parlato dai 50 ai 69 anni ogni due anni io faccio il medico di medicina generale e da tanti anni è così però è stato detto che dovrebbe essere fatta una mammografia annuale che allora noi alle donne che fanno lo screening dovremmo far fare una mammografia intermedia tra l'altro credo che il sistema sanitario era una legge che è stata fatta sempre da mio papà quando era ministro prevede comunque di poter fare la mammografia gratuitamente a tutte le donne il codice di esenzione per la gratuità è ogni due anni comunque ma al di là del pagamento del ticket che non era l'argomento della mia domanda la mia domanda era noi dovremmo comunque partire dai 40 e tra i 40 ai 45 almeno una e poi dopo i 45 annuali io lo consiglierei assolutamente mammografia eventualmente abbinata però anche all'ecografia e dopo i 69 io ho avuto pazienti di 90 che hanno avuto il tumore allora diciamo il rischio aumenta in realtà è vero che normalmente sono tumori meno aggressivi e quindi la diagnosi precoce magari non è così essenziale però capita anche in donne più anziane di avere tumori aggressivi quindi io personalmente consiglierei è chiaro che poi dipende da donna a donna però se una donna ha 80 anni e fit sta bene come tante ragazze di 80 anni oggi comunque almeno ogni paio d'anni una mammografia io consiglierei comunque di andare avanti certo grazie allora prima di parlare del futuro dell'oncologia e tra genetiche eccetera eccetera la dottoressa Mazza ci parlerà dell'oncologia medica nuovi farmaci tollerabilità effetti collaterali come accompagnare il paziente durante la terapia grazie grazie allora io sono Manuelita Mazza sono una medica oncologa lavoro all'istituto europeo di oncologia da tanti anni mi occupo di tumore al seno e mi occupo di studi clinici e adesso mi occupo anche di tutto il mondo dei social media in ambito di ricerca clinica non ho disclosure circa questa relazione la prima relazione e un po' un overview su quello che è diventata l'oncologia medica oggi quanto è cambiata già da quando io ero specializzanda e intanto qual è il percorso oncologico cioè di che cosa parliamo noi parliamo vediamo se non so come sia il puntatore vabbè una volta che la donna è entrata tramite l'imaging lo screening piuttosto che si sente un nodulino nel percorso di una si spera breast unit facciamo una biopsia facciamo la stadiazione cioè quell'insieme di esami che sono la estensione anatomica del tumore definiamo dove è il tumore dopodiché le donne che hanno una diagnosi di tumore al seno ma in generale in oncologia vengono suddivise in due grosse categorie che sono le donne senza metastasi a distanza quindi senza localizzazioni al di fuori della zona che sono i linfonodi sovra e sotto claveari la mammella l'ascella questa zona è una zona passibile di un intervento di un trattamento medico chirurgico e radioterapico con intento guaritivo definitivo se invece noi troviamo una localizzazione al di fuori allora è una donna con un'altea metastatica o può diventare in un secondo momento metastatica circa il 7-10% dei tumori mammari si presentano come metastatici all'esordio quindi quali sono i tipi di trattamenti in che ambiti ci muoviamo ci muoviamo se la donna non ha metastasi ha una prima diagnosi in quello che è il mondo delle terapie ad uso e ad intento guaritivo che sono i trattamenti medici prima o dopo la chirurgia quindi i trattamenti neoadiuvanti o primari o preoperatori e i trattamenti adiuvanti o precauzionali o postchirurgici cioè quando il tumore non ce l'ho più se invece trovo una donna con una malattia metastatica tutti i trattamenti che seguono sono trattamenti per la malattia metastatica sarà la prima linea seconda linea terza linea e così via soffermiamoci sul concetto di terapia neoadiuvante sicuramente io non so chi di voi è medico di medicina generale o chi di voi ha a che fare con donne che hanno avuto un tumore della mammella o che hanno un tumore della mammella però che cos'è la terapia preoperatoria neoadiuvante è un trattamento medico che non è sempre e solo chemioterapia cioè noi oggi ci muoviamo all'interno di tutte queste categorie di farmaci le chemioterapie le ormonoterapie i farmaci a bersaglio molecolare i farmaci coniugati anticorpo chemioterapico proposta alle donne con diagnosi tumore mammario localizzato quindi senza metastasi prima dell'intervento chirurgico una volta un tempo noi proponevamo la terapia preoperatoria perché non potevamo operare le pazienti quindi la dottoressa De Scalzi vedeva una paziente la dottoressa De Scalzi no perché è troppo giovane però diciamo fino a qualche anno fa la terapia preoperatoria spesso era una terapia palliativa cioè si spera che con la terapia tu possa arrivare ad avere una chirurgia radicale oggi in realtà le cose sono cambiate cioè noi proponiamo non più soltanto ad una donna con malattia non operabile ma anche a tumori molto piccoli perché vediamo abbiamo dei vantaggi cioè questo se noi andiamo dagli anni 70 in cui questa era la situazione con cui ci trovavamo negli anni 90 le cose sono cambiate abbiamo cominciato a dire guarda ci sta una quadrantectomia però in questo tumore forse ho un vantaggio dall'anticipare le cure sistemiche ok questo è il concetto quindi una volta solo ai tumori che non erano operabili oggi invece perché vogliamo vedere quello che prima diceva il professor Paolo Veronesi no la risposta completa cioè oggi noi disegniamo il percorso della paziente e riusciamo a immaginare il suo futuro se facciamo una terapia prima perché la terapia in realtà è un test di sensibilità in vivo e ottenendo la risposta patologica completa noi sappiamo che quella paziente è candidata ad essere già guarita e cambia il tipo di trattamento che facciamo dopo se c'è la risposta o non c'è la risposta cosa succede? succede che come prima cosa noi dobbiamo caratterizzare questo benedetto tumore mammario il tumore mammario non è una malattia il tumore mammario è una scatola questa è la frase che dico alle mie pazienti che contiene una serie di patologie alcune delle quali sono tra di loro diversissime per prognosi trattamenti effetti collaterali ricaduta sulla qualità della vita nella sopravvivenza quindi di tutti i tumori mammari noi oggi sappiamo che esistono queste tre che fanno più siamo più in confidenza con questa definizione tumori recettivi agli ormoni il tumore R2 positivo e il tumore triplo negativo in realtà esiste da un paio d'anni una quarta categoria che attraversa tutte queste si chiama R2 low cioè ognuna di queste categorie può avere l'R2 questa ce l'ha e basta ma anche questa e questa possono avere un poco di R2 che ha stravolto anche i costi del nostro sistema sanitario li sta stravolgendo però anche la sopravvivenza delle pazienti quindi che facciamo primo esame istologico una paziente entra in ospedale fa una visita fa l'esame istologico non va direttamente al tavolo operatorio tutte le nostre pazienti vengono discusse tutte vengono discusse in accordo all'estensione della malattia all'età alle caratteristiche e alle preferenze della paziente andiamo a vedere se c'è i recettori degli ormoni se è espresso l'R2 o se è un tumore senza queste due cose che chiamiamo tumore triplo negativo che è più tipico delle donne giovani ha una spiccata aggressività e molto che mio sensibile l'approccio è multidisciplinare è inutile che mi dilunghi ve l'ha detto già il professor Veronesi l'abbiamo citato più volte con Alessandra siamo abituati facciamo discussioni dalla mattina alla sera coinvolgiamo una serie di figure che sono anche il genetista il patologo il radiologo sicuramente il chirurgo e l'oncologo e come ci comportiamo a chi proponiamo la cura neoadjuvante cioè che cosa succede allora i tumori con recettori ormonali positivi in casi selezionati possono essere indirizzati ad una terapia preoperatoria se ricordate prima il professor Veronesi ha detto sa poi ci sono dei tumori che vanno benissimo sono molto sensibili alle cure preoperatorie come le chemioterapie il tumore ormono responsivo è poco chemiosensibile poche volte facciamo la chemioterapia preoperatoria perché non è vantaggiosa cioè non c'è un vantaggio in termini di sopravvivenza nel fare una chemioterapia prima dell'intervento chirurgico quindi questo è l'unico tumore diciamo anni 80 che abbiamo rispetto alla chemio preoperatoria cioè l'unico tumore in cui proponiamo il tumore ormono responsivo er2 negativo detto anche più finemente più modernamente luminale proponiamo la chemioterapia preoperatoria quando il tumore è molto grande c'è un grosso burden un grosso carico linfonodale una donna giovane per esempio in cui c'ho un grosso carico di linfonodi provo a fare una chemioterapia preoperatoria i chemioterapici sono vecchissimi sono gli stessi che ci stanno da 30 anni sono le antracicline e i taxani famose pirubicina adriblastina la chemiorostra la ciclofosfamide il docetax e lo taxotere è paclitaxel con tossicità che sono tipiche che sono le neutropenie sono le ragioni per cui poi chiamano i medici di medicina generale non trovano l'oncologo devono fare il fattore di crescita quindi sono tossicità ormai maneggevoli però tradizionali però nelle donne in menopausa con malattia ormonoresponsiva la classica prima la collega diceva io ho pazienti di 90 anni sì pazienti di 90 anni che ha un profilo di malattia ormonoresponsiva ma anche più giovane potrebbe anche non desiderare l'intervento chirurgico senza che questo gli comporti un cambio sulla sopravvivenza e prendere una terapia ormonale che riduce il nodulo e magari lo tiene sotto controllo o la porta ad una chirurgia di minima più accettabile però diciamo è limitato l'impiego non sono così entusiasta nel parlarvi della terapia preoperatoria di cui io sono molto entusiasta nel tumore ormonoresponsivo proprio perché sono terapie che ancora tranne che negli studi clinici sono un po' vecchie quindi le indicazioni della terapia ormonale preoperatoria sono donne in menopausa ormonoregettori positivi ma soprattutto appunto persone che hanno una serie di comorbidità persone anziane quanto dura il trattamento e un altro questo è un altro punto interrogativo perché il trattamento non a parte la chemioterapia preoperatoria che è uno standard sono sei mesi tre mesi di antracicline e tre di taxani in realtà quando io vado a fare una terapia ormonale neoadiuvante ci sono degli studi noi abbiamo fatto anche delle esperienze le risposte nella terapia ormonale sono lente quindi le cominci a vedere dopo il terzo quarto mese non è detto che hai un downstaging cioè un arretratamento della positività dei linfonodi per cui devi fare una terapia anche per oltre quattro sei mesi non è detto che quella donna accetti nel mentre di stare con un tumore addosso quindi c'è anche questo questo fenomeno tumori con recettore ormonale negativi ed er2 negativo vi ricordate il tumore famoso triplo negativo in questo caso tutti noi proponiamo dobbiamo proporre un trattamento preoperatorio ormai è veramente deontologicamente non concepibile non proporre una terapia preoperatoria ad una donna con un tumore triplo negativo perché il tumore triplo negativo ha un vantaggio in termini di sopravvivenza nella chemioterapia preoperatoria perché la chemioterapia preoperatoria oggi è fatta di farmaci come la immunoterapia il farmaco che noi utilizziamo oggi che è utilizzato anche in altri tumori il tumore mammario è il pembrolizumab il pembrolizumab è un farmaco immunoterapico che diciamo interagendo col sistema immunitario della paziente stessa gli insegna insieme alla chemioterapia a uccidere le cellule tumorali è dato un vantaggio in termini di donne che si sono salvate e in termini di risposta patologica completa cioè moltissime delle donne che hanno fatto la chemioterapia preoperatoria quindi sempre antracicline e taxanie insieme al pembrolizumab hanno avuto una risposta completa i chemioterapici sono gli stessi e poi perché facciamo la terapia preoperatoria perché sappiamo cosa fare dopo questa donna cioè delineiamo un percorso che migliora la sopravvivenza la probabilità di guarire tumori ER2 positivi l'avete sentito sicuramente nominare l'ER2 poi c'è ne ha parlato pure Burioni guardate dell'ER2 low e dell'ER2 positivo tumore ER2 positivo sono delle cellule tumorali che hanno sulla superficie possono avere anche i recettori ormonali che sono però dei recettori nucleari ma sulla loro superficie possono avere queste devono avere questo recettore ER2 che è un recettore che induce un fenomeno di crescita spiccatissimo l'ER2 abbiamo contro l'ER2 un anticorpo monoclonale che è stata la penicillina dell'oncologia ha cambiato completamente la visione di questo tumore e cioè il trastuzumab quindi un anticorpo monoclonale diretto contro l'ER2 il trastuzumab e oggi anche il pertuzumab che da pochissimo tempo abbiamo il nostro armamentario terapeutico con il sistema sanitario nazionale quindi sono due anticorpi che legano in punti diversi l'ER2 aumentando la risposta in associazione sempre alla stessa solfa cioè non è che siamo così fantasiosi gli oncologi antracicline taxani e compagnia danzante lo standard della chemioterapia preoperatoria quando c'è la chemioterapia è di circa sei mesi antracicline e taxani tre mesi e tre mesi quindi questo è più o meno per tutti che informazioni abbiamo la risposta al trattamento guida la scelta dei passi dopo l'intervento quindi è un modo per andare verso la personalizzazione della terapia cioè nel tumore triplo negativo io so che terapia dare dopo la chirurgia la parte adiuvante cioè la terapia adiuvante se ho avuto prima una preoperatoria cambia secondo del tipo di risposta alla preoperatoria questo anche succede nei tumori R2 positivi dove ho dei dati molto forti su questo e anche nella terapia ormonale io posso potenziare oggi la terapia ormonale con dei farmaci a bersaglio molecolare che sono dei farmaci orali dispensati dalle oncologie ma che avrete sentito sicuramente nominare ovviamente nelle donne giovani c'è invece una commutazione genetica c'è un programma chirurgico ad hoc come potete immaginare che comprende anche la mastectomia controlaterale nel momento in cui si va a chirurgia ovviamente la preservazione della fertilità che è un ambito fortissimo importantissimo oggi riusciamo anche a interrompere le cure ormonali alle donne operate di tumore mammario per farle avere una gravidanza sono i risultati di un grosso studio in cui noi abbiamo avuto un enorme contributo come nazione come istituto e lo studio positive quindi la gravidanza diciamo non ci fa più tanta paura non ci fa più paura quando ci spostiamo invece nella parte adiuvante del percorso della paziente significa cioè che la paziente è stata operata la paziente è stata operata e quindi fa il trattamento che si chiama adiuvante anche in questo caso che cos'è? i farmaci che do dopo la chirurgia questo è il trattamento adiuvante o precauzionale o postchirurgico perché glielo do? cioè me l'ha chiesto ieri mia figlia scusi si è operata una nostra molto cara amica mamma ma perché Daniela deve fare la chemio se le avete tolto il tumore? perché? perché io non lo so se è guarita perché esiste la probabilità che vi siano micrometastasi e che queste possano crescere nel tempo nascosti in altri organi e per questa ragione che noi facciamo una terapia adiuvante che di fatto è un trattamento è una sorta di assicurazione che tu la paghi ma non è detto che la paghi a ragionveduta insomma ok? quindi ovviamente il prezzo dell'assicurazione deve essere congruo rispetto al rischio facciamo la terapia adiuvante per aumentare le chance di una guarigione completa ok la facciamo sempre la terapia adiuvante? no non a tutte le donne facciamo una terapia adiuvante alla maggiori parte delle donne ma ad alcune donne non facciamo dopo la chirurgia una terapia adiuvante perché? perché probabilmente il rischio di una ricaduta è trascurabile a fronte invece degli effetti collaterali di una terapia adiuvante che magari è inutile come si fa la terapia adiuvante? prendiamo sempre il nostro esame istologico in accordo a quello che troviamo i recettori eccetera facciamo l'ormonoterapia tamoxifene eletrozola nastrozolo eczemestane decapeptile e compagnie chemioterapia sempre quelle che vi ho detto antracicline taxani le famose terapie intelligenti che sono differenti ormai dopo vedremo qualche nome qualche setting qual è la durata della terapia adiuvante? può essere molto breve le chemioterapie di corta durata e c per 4 taxolo per 12 settimane ok? e fine nient'altro oppure 10 anni di terapia ormonale con tutto quello che comporta in termini di svariate mock che le pazienti dovranno fare di svariate terapie di supporto da punto di vista fisiatrico endocrinologico metabolico cardiologico c'è un peso enorme silenziosissimo non troppo ancora non troppo urlato dalle pazienti ahimè di queste terapie quindi ancora una volta nell'ambito della della terapia adiuvante se operato un tumore ormonoresponsivo farà una terapia ormonale sempre anche se è un tumore non infiltrante un tumore in situ propongo una terapia ormonale d'altamoxifene che ormai noi proponiamo soltanto ai bassissimi rischi fino agli inibitori dell'aromatasi la chemioterapia oggi abbiamo i test genomici qualcuno ne avrà sentito parlare come ad esempio oncotype di X rimborsato il sistema sanitario esiste un fondo ad hoc per questo test nel nostro paese utilizzato non in maniera organica nel paese in questo test le donne che hanno fino a tre linfonodi positivi possono sperare di non dover fare la chemioterapia perché il test ha un valore sia prognostico che predittivo quindi sia predice quale sia il rischio di ricaduta e sia racconta se c'è un vantaggio dal fare o meno la chemioterapia questo test viene fatto negli Stati Uniti quindi noi dobbiamo andare i pezzi negli Stati Uniti esce fuori un punteggio da 0 a 100 che racconta una signature una firma intrinseca dell'aggressività di questo tumore e fino a un certo punteggio non ha senso fare una chemioterapia capite bene che questo è un modo ancora ulteriore che abbiamo per personalizzare i trattamenti poi abbiamo i farmaci a bersaglio i farmaci a bersaglio sono per esempio abemaciclib e ribociclib che sono dei farmaci usati nel tumore mammario ormonoresponsivo abemaciclib è già in indicazione ribociclib lo sarò a breve sono dei farmaci per bocca inibiscono le cicline cioè delle molecole che innescano il ciclo cellulare e migliorano di conseguenza il funzionamento della terapia ormonale quindi abemaciclib e ribociclib sono indicati nei tumori molto grandi o con linfonodi positivi dopo la chirurgia abemaciclib nello studio monarchy ha migliorato la progression free survival si dice di un quarto del 25% cioè molte donne continuano ad essere vive grazie ad abemaciclib che si fa per due anni insieme alla cura ormonale è dispensato in un'oncologia significa una visita al mese può dare diarrea anche di gradi elevati significa chiamate continue quindi sono tossicità che sappiamo gestire ma che non sono proprio scontatissime quando parliamo di qualità della vita anche perché le nostre pazienti sono persone che hanno un lavoro che devono essere attive nell'ambito di una società che hanno dei figli insomma è impegnativo anche questo Olaparib è un PARP inibitore inibisce una proteina che si chiama PARP che è coinvolta nella carcinogenesi dei tumori BRCA mutati quindi lo proponiamo in quelle pazienti nella terapia adiuvante dopo una chemio preoperatoria nelle donne ormonoresponsive non diamo più la chemio gliel'abbiamo già data diamo sempre la terapia ormonale possiamo dare di nuovo abemaciclib ribociclib e oraparib non sappiamo ancora che farcene in queste pazienti dell'immunoterapia nel tumore ER2 positivo alle volte noi non operiamo queste donne quando il tumore è fino a 2 cm e non ha l'inforno di interessati clinicamente può essere utile la chirurgia d'amblè perché oggi sappiamo che in questi tumori se piccoli la chemioterapia può essere molto corta di 12 settimane e quindi in questi casi facciamo una chemioterapia insieme a Trastuzumab e Pertuzumab insieme se il tumore ha i linfonodi positivi soltanto Trastuzumab se il tumore invece non ha i linfonodi positivi anche qui se io ho fatto una chemioterapia preoperatoria insieme a Trastuzumab e Pertuzumab e poi ho operato una donna di un tumore ER2 positivo scusate se ho raggiunto la risposta patologica completa io non farò più nulla se non dargli una terapia che è la stessa che aveva già avuto il Trastuzumab visto che ha avuto la risposta completa se invece ho residuo nel pezzo operato quindi la chemioterapia preoperatoria non è stata eccellente non ha pulito tutte le cellule tumorali nella mammella allora posso dare Tdm1 che è il Trastuzumab Mtasine che si fa per diciamo completare l'anno di terapia è molto maneggevole ed è un farmaco anche questo è stato rivoluzionario quindi io posso cambiare quella sopravvivenza cambiando il percorso di quella donna che ha fatto una terapia preoperatoria differente stessa cosa il tumore triplonegativo i tumori triplinegativi qui c'è una bellissimo dibattito perché per esempio tumori triplonegativi molto piccoli si può discutere di non fare nessuna chirurgia strano no? nessuna chemioterapia però in realtà la maggior parte di questi tumori vanno incontro a chemioterapia dai 3 ai 5 mm in poi ovviamente mai una terapia ormonale perché come aprire casa vostra con le chiavi di casa mia cioè non c'è il recettore estrogenico quindi non ha senso si può fare una terapia a bersaglio sì il parp inibitore vi ricordo i tumori triplonegativi spesso sono legati ad un'alterazione in BRCA e Olaparib è un farmaco che agisce sulle donne con alterazioni in BRCA cioè agisce proprio su quello se io invece ho una paziente che ha fatto la mia bella neoadjuvante con il pembrolizumab la chemioterapia la opera la dottoressa Scalzi la opera poi viene da me col suo esame istologico e dice guarda la signora ha avuto una risposta patologica completa prosegue la sua immunoterapia che aveva già iniziato per 9 somministrazioni quindi finisce un anno di immunoterapia se invece è rimasto qualcosa cioè non ha la pathologic complete response allora io dovrò dare la chemioterapia per bocca oppure l'olaparib sempre insieme al pembrolizumab non do ovviamente mai neanche in questo caso la terapia ormonale quindi ci sono degli elementi di personalizzazione sì l'esame istologico certo chi è la paziente certamente guardate che per esempio inibitori di cicline io consegno sempre il foglio con i farmaci concomitanti sapete che sulle concomitant medication noi ce ne siamo fregati per decenni ma sono importanti dal punto di vista cardiologico possono aumentare il QT e questi farmaci lo fanno e lo fanno insieme a farmaci che diamo comunemente come gastroprotettori quindi è importante la collaborazione tra professionisti intorno ad una paziente così complessa e che dura così tanto cioè che a vita avrà o per moltissimi anni avrà a che fare con questa problematica la logistica cioè è ovvio che se io ho una signora anziana che vive da sola lontano sceglierò un trattamento che possa essere adeguato a quella donna che possa essere maneggevole per quella donna perché esistono per esempio inibitori di cicline monosomministrazione che non danno diarrea forse sono meno efficaci dal punto di vista statistico della sopravvivenza però devo mettere tutto sulla bilancia perché se la signora anziana si disidrata probabilmente non è il massimo ovviamente per quanto riguarda invece la malattia metastatica prima linea abbiamo già detto che il tumore della mammella è una malattia non soltanto una malattia è una malattia che contiene una serie di patologie che abbiamo definito soprattutto con la presenza dei recettori degli estrogeni dell'ER2 o la loro assenza ma anche il grado e anche poi ci sono dei test multigenici e i sottotipi molecolari di cui non abbiamo parlato perché se no penso che mi avreste picchiata giustamente ragionveduta però che cosa significa medicina personalizzata significa il giusto trattamento per la giusta paziente al momento giusto cioè non la stessa taglia per tutte ma la taglia giusta per ciascuna donna questo significa il giusto trattamento questo è lo sforzo che facciamo con questo tipo di medicina oggi e che io ho visto cambiare sotto i miei occhi veramente negli ultimi anni qua sto citando un pochino quello che diceva prima Alessandra perché diceva non è tanto il curare il prendersi cura la differenza tra cura e guarigione il problema delle nostre donne con malattie metastatiche è che diciamo noi non riusciamo ad avere una restituzione di integrum non è più tanto vero noi non riusciamo a dimostrare che la donna sia guarita in questo momento non lo sappiamo fare non siamo così fini ma ci sono donne con malattie metastatiche che sopravvivono per decenni probabilmente sono guarite e stiamo valutando questa cosa che cosa vogliamo vedere noi noi vogliamo vedere un aumento di tasso di risposte nelle donne metastatiche un aumento che significa tasso di risposte che il tumore per esempio da 10 centimetri di lesioni epatiche diventa 2 centimetri ok quello è il tasso di risposte obiettive vogliamo vedere che sopravviva senza che la malattia vada avanti cioè che rimanga ferma così e la signora non abbia ulteriori episodi di nuove resacerbazioni del tumore vogliamo vedere la sopravvivenza globale cioè che quella donna viva sempre più a lungo nonostante la presenza di questa malattia ma tutte queste cose se non si intersecano con la qualità di vita cioè se io faccio il taxolo settimanale che funziona benissimo e le viene la neuropatia periferica e non cammina più non lo so sinceramente se qualità di vita peraltro ormai nessuno si può più permettere di non essere attivo questo è differente da guarigione ok questo è quello che succede nella malattia metastatica in termini di estensione della malattia noi oggi parliamo proprio di tanti tipi di diffusione della malattia dalla malattia oligometastatica cioè circa il 10% di malattia presente che soprattutto a livello osseo e ricordatevela questa cosa perché cambia la sopravvivenza cambia tantissimo l'approccio anche di discussione con questa donna la malattia invece viscerale che è molto più aggressiva poi c'è sono quelle che ha sia osso che viscere poi c'è invece quella che noi chiamiamo crisi viscerale la crisi viscerale è una delle nostre urgenze in cui probabilmente non arriviamo a fare dei trattamenti lunghi facciamo delle chemioterapie standard in vena la paziente che arriva con sette di bilirubina per dire 500 di transaminasi e si spera di fare qualche cosa oppure la paziente che ha un interessamento cerebrale o peggio meningeo verso il quale abbiamo pochissime chance questo è più o meno come sono distribuite le metastasi a secondo che sia un tumore ormonoresponsivo o triplo negativo come vedete sistema nervoso centrale più ci spostiamo verso questi feniti più aggressivi e più abbiamo presenza di metastasi cerebrali quello che dicevo prima è che in realtà la malattia oligometastatica poche metastasi oggi abbiamo visto che possiamo non solo curarla quad vitam ma forse possiamo trattare ad un certo punto della terapia sistemica quella unica metastasi con dei trattamenti locoregionali e forse avere una paziente guarita fa impressione per me che sono un oncologo usare questa parola ve lo dico c'è una roba strana però la posso utilizzare questo è un po' quello che è successo prima il prof stava parlando del suo papà e vi dico insomma qual è la timeline di quelli che sono i farmaci che io ho visto utilizzare da quando faccio questo lavoro quindi gli inibitori dell'aromatasi dal 77 al 2000 il fulvestrant everolimus exemestane il famoso affinitor sono terapie ormonali queste guardate poi che corsa che c'è stata negli ultimi anni con tutti questi farmaci che sono ribociclib gli inibitori di cicline che hanno cambiato la sopravvivenza che sono stati spostati nella fase post chirurgica non più nella fase metastatica i farmaci anti-R2 come Trastuzumab e Derux che oggi diamo anche alle pazienti R2-Law quindi alla metà delle donne con malattia metastatica indipendentemente che siano R2-positive triplonegative o luminali o ormonoresponsive e oggi abbiamo tra poco adesso abbiamo anche un farmaco nuovo abbiamo elacestrant da pochissimo che è un farmaco ormonale che supera la resistenza alle ormonoterapie abbiamo i farmaci di combinazione abbiamo tutti gli oncologi questi nomi molto simpatici Sacituzumab Govitegan e Trastuzumab Derux che non lo facciamo apposta così nessuno si ricorda i nomi e noi sembriamo più colti ma in realtà sono farmaci con vecchi chemioterapici coniugati a degli anticorpi e questo è una strategia per avere pochissima tossicità ed è altissima efficacia poi pochissima tossicità è sempre relativo così come anche nel tumore triplonegativo non è più così negativo abbiamo gli anticorpi come la tezolizumab e il pembrolizumab cioè le immunoterapie si danno insieme ai chemioterapici e poi si danno a mantenimento a risposta tenuta Olaparib e Talazoparib si danno Olaparib si danno anche dopo la chirurgia ma si danno anche nelle donne metastatiche e questo Sacituzumab Govitegan e Trastuzumab Derux sono due chemioterapici coniugati ad anticorpi che hanno fatto veramente una svolta cioè in questo tumore triplonegativo metastatico di tutta questa roba qua non c'era nulla ma fino ad ora ok quindi c'era solo chemioterapia e chemioterapia ammesso e non concesso che insomma si riusciva a funzionare nell'ER2 l'ER2 positivo circa il 15-20% di tutti i tumori è stato sfidante perché dal 98 dall'era trial quando non sapevamo che fare con questo tumore le donne morivano tutte quante sotto quintalati di chemioterapia in realtà c'è stata una spinta verso tutti i farmaci anti-ER2 quindi finalmente abbiamo capito il target e questo ha portato ad una rivoluzione dal punto di vista sia della pipeline dei farmaci registrati ma anche della sopravvivenza a questo tumore gli ultimi sono trastuzumab ederuxitecan e tucatinib che ha attività sul sistema nervoso centrale la guarigione impossibile questo abbiamo detto che invece non è tanto impossibile la cosa più importante è condividere le discussioni con le pazienti cioè non è detto che io abbia una sola opzione oggi ho più di un'opzione non è detto che io sappia davvero che ce n'è una molto molto più valida e quindi è fondamentale condividere con la paziente non posso più avere un'attitudine paternalistica io sto da una parte e la signora sta da un'altra non è così non è così le decisioni si prendono insieme esiste proprio un algoritmo che si chiama share proprio per raccontare di come si condividono e di come si cerca in qualche maniera l'ingaggio della paziente la sua motivazione e bisogna parlare con questa donna questo migliora l'esperienza delle pazienti migliora il rapporto che abbiamo perché ormai il sistema sanitario è veramente come dire un ferito non voglio dire un animale morente perché ci voglio sperare molto però è sicuramente ferito solo l'alleanza con le nostre pazienti può aiutarci se no non ce la possiamo fare insomma quindi credo molto nel trattamento e nella discussione con la paziente credo molto nel valore degli studi clinici perché ci permettono di dare il meglio di una paziente quindi motiviamo le pazienti a partecipare agli studi clinici significa avere qualcosa di innovativo in oncologia non è possibile dare un placebo quindi è sempre etico uno studio clinico e posso avere una cura ad altissimo costo che non esiste nel sistema sanitario non è l'ultima spiaggia vado veloce perché non vorrei ovviamente ovviamente bisogna c'è il sito dell'IOM che è l'associazione italiana di oncologia medica che ha la lista dei trial clinici ovviamente sono scritti tutti in inglese quindi figurati la signora di Catanzaro Lido penso io come deve fare però vabbè ci arriveremo comunque abbiamo ancora tantissimo da fare sicuramente vi lasciavo con questo perché in realtà noi dobbiamo coinvolgere la paziente trovare delle strategie per capire prima chi risponderà a quella terapia selezionare bene i pazienti e ovviamente vi lascio con questo su dottor Google perché poi è la cosa di cui mi occupo molto felicemente da qualche anno e dell'altra non so che tempo che tempi abbiamo grazie intanto per questa parte pesante abbiamo tempo no vi faccio vedere solo quello che faccio con i social media allora mi potete seguire su Instagram faccio pubblicità proprio questo fatto di coinvolgere le pazienti e rendere le parti attive del processo decisionale il fatto di aver preso parte a tutto quello che è stata la telemedicina in EO fa sì che io insomma mi sia diventata una addicted dei social media e dello studio dei social media ma perché ce ne dobbiamo prendere carico che ce ne frega noi che siamo medici perché dobbiamo che cosa ci otteniamo da questo e perché dobbiamo fare i social media o dobbiamo occuparcene dobbiamo occuparcene perché noi siamo già nell'epoca digitale indipendentemente da quello che diciamo perché tutto quello che sono le conversazioni tra gli esseri umani e comunque online indipendentemente che io lo voglia o no e perché sono un'opportunità anche per ingaggiare le persone quando si tratta di salute e per imparare tra noi professionisti se noi adesso questa è vecchia penso sia di dicembre se andate su PubMed e scrivete social media in cancer fatelo adesso magari provate a vedere che differenza c'è comunque all'epoca c'erano 3409 risultati per farvi capire che non è una cosa estremamente banale anche perché se andiamo a guardare il data report dell'utilizzo della digitalizzazione di internet il 92,3% delle persone che usano internet hanno un social media cioè tutti social media è anche whatsapp quindi siamo tutti un po' social ovviamente come medico ci sono una serie di rischi che sono legati a mantenere le barriere che sono legati alla privacy che sono legati a tutta una serie di cose però in realtà per me è importante sia perché è un aggregatore di informazioni riesco ad avere per esempio su Twitter ex Twitter che adesso si chiama X si riescono ad avere immediatamente le novità congressuali da tutto quanto il mondo e si riescono a raggiungere dei colleghi che sono magari mega professori di Harvard che altrimenti non avresti potuto raggiungere ma nello stesso tempo riesco a raggiungere anche e quindi riesco a spezzare delle barriere nello stesso tempo ci sono una serie di rischi questa è l'ASCO la società americana che prima di noi è parlato di oncology e social media bisogna fare attenzione ovviamente a non rispondere ai referti mandati ma questo anche su whatsapp cioè se vi mandano il referto su whatsapp è un problema ma tanto lo so che lo facciamo perché non abbiamo scampo quindi lo so che lo sapete ma lo so che lo facciamo lo faccio anch'io non c'è niente da fare lo faccio con chi conosco ovviamente poi c'è quello una volta mi è stato mandato anche il referto di un tumore di un cane vi dico questo però era mammario quindi ok è vero purtroppo è verissimo è verdad ok quindi come si parla con le pazienti lo stiamo cercando di studiare adesso vi passo avanti soltanto per dirvi che io me ne occupo sia per cercare di capire che cosa è nella ricerca sul cancro i social media lo sto utilizzando in quello cioè per avere dei big data dei dati da quelli che sono i comportamenti le attitudini della popolazione generale per intervenire sulla popolazione generale e sia per sapere che cosa ne pensano gli oncologi medici mi occupo di virtual hospital nel nostro ospedale mi occupo di telemedicina questa è un'altra nostra esperienza per gestire il paziente da remoto e migliorare l'outcome e l'esperienza del paziente questo è l'andamento delle televisite nel 2019 zero praticamente pandemia però questo è il 2023 stiamo ancora crescendo e qua la pandemia era già bella che è andata quindi è ovvio che significa battere l'accessibilità continuità delle cure tempi di attesa riduzione dei costi riduzione dei costi perché anche col sistema sanitario venire a Milano costa io faccio l'esempio sempre stranamente dalla Calabria come si dice dal mio accento ma costa almeno mille euro un supporto psicologico gestire il paziente a distanza quindi questi sono alcuni dei vantaggi che ci dà volevo soltanto dirvi perché sono molto orgogliosa di questo che in questo momento in istituto abbiamo un'app per il monitoraggio dei pazienti saranno contenti i colleghi medici di medicina in generale l'app si chiama Curity è un'app francese di una piccola start up francese che ha già registrato quest'app come dispositivo medico chirurgico quindi di fatto se facessimo un trial è una terapia digitale è un'app che noi diamo in mano a pazienti con in corso di terapie orali importanti come gli inibitori di ciclina vengono monitorate questo è quello che noi poi vediamo vediamo una dashboard a secondo del questionario i pazienti ricevono un questionario che può essere da una volta al giorno una volta al mese le mie pazienti per esempio mando il questionario ogni settimana gli risponde un risponditore automatico tipo hai avuto diarrea? Sì quante volte? Tre volte? Prendi l'open mi fai questo eccetera questo significa per la paziente sentirsi presa in carico dietro ovviamente a secondo delle risposte si accendono dei semafori che vanno da verde a giallo e poi arancione e rosso arancione e rosso vengono tutte monitorate dalle nostre infermiere che chiamano le pazienti cioè è una cosa secondo me bellissima di cui sono molto entusiasta e possiamo mettere nell'app anche dei video dei tutorial educativi eccetera quindi abbiamo tutta una serie di appunto monitoriamo continuamente rileviamo dei dati possiamo fare analisi dei dati possiamo capire come funziona il mondo reale che non è quello dei trial clinici cioè la gente comune non è quella che entra negli studi clinici il mondo reale real world diciamo il mio obiettivo sarebbe questo ma non ce la posso ancora fare quindi la tracciabilità la condivisione altra cosa di cui sono molto orgogliosa che abbiamo in istituto sono gli studi dematerializzati decentralizzati cioè noi abbiamo degli studi non interventistici da sempre fatti di questionari per esempio in questo momento ne abbiamo due uno sulla preferenza della chemioterapia e uno sulla televisita io somministro il consenso informato da remoto con una firma che si chiama firma elettronica avanzata è come firmare davanti a un notaio questo anche questo significa inclusività prossimità quindi non sempre digital e freddo ovviamente è un processo sicuro tracciato eccetera e poi quello che faccio con i social su ste robe qua che mi divertono molto cioè faccio delle survey e chiedo alle donne ma tu cosa vuoi mangiare io ho circa 10.000 pazienti che mi seguono su Instagram di cosa hai paura e abbiamo raccolto tantissimi dati ci hanno raccontato un sacco di cose di che cosa avevano paura quanti anni avevano queste donne eccetera questi erano diciamo tutti gli items che abbiamo trovato e tutte le cose che volevano sapere tipo sull'osteoporosi e l'alimentazione eccetera e di questo probabilmente in istituto ne faremo un corso di nutrizione quindi daremo un feedback e un output a queste donne che ci hanno raccontato questo questo è quello che dobbiamo fare con i social con Bocconi sto portando avanti una survey so Alessandra mi diceva che comunque l'ordine di Milano è interessato alla tematica social media questa è una survey che abbiamo completato in realtà è fatta di due metà una sono delle domande che abbiamo fatte agli oncologi italiani cosa vuoi che faccia un oncologo sui social hanno risposto 245 erano i questionari che abbiamo potuto valutare tutti i medici oncologi era distribuito un po' in tutta quanta Italia abbiamo trovato una cosa molto bella che vi anticipo che questa abbiamo fatto un'analisi a cluster abbiamo trovato tre cluster ognuno di voi forse si identifichi in una particolare che sono i social addicted i social phobic e i social moderati ovviamente i social addicted potrei essere io perché utilizzo i social ci credo molto come funzione educativa eccetera i social phobic sono quelli oh mio dio il mio primario ecco che proprio si schifa terribilmente non vuole neanche il telefono c'è ancora i gettoni ma non trovo una ok e poi ci sono quelli moderatamente social cioè quelli che dicono ma forse quello che è interessante è che tutti e tre questi profili credono che i social abbiano un senso lì dove voglio intervenire sulla comunità per esempio un influencer dice che è meglio fare la donazione del sangue state tranquilli che c'è la fila per andare a fare la donazione del sangue fate la pubblicità progresso su mangiare una mela al giorno non vi calcola nessuno cioè oggi questo può arrivare a delle sacche di popolazione dove prima non voleva arrivare tutti e tre questi profili sono d'accordo su questo a breve uscirà il paper quindi vi dirò il resto e poi vi racconteremo anche quello che abbiamo trovato chiede facendo la stessa domanda alle pazienti la cosa interessante è che i social addicted non sono del nord Italia come pensavo ma sono del sud Italia e non sono giovanissimi ma sono i più vecchi e questo ce lo siamo spiegato perché al sud Italia non hanno lo IEO l'istituto nazionale tumori cioè hanno bisogno di fare rete quindi forse sono social non perché parlano con i pazienti ma tra di loro cioè vanno su piattaforme tra professionisti e le persone che usano i social con disinvoltura sono quelli che non hanno tanta paura della ricaduta anche pubblica sono più sicuri della parte loro professionale e i medici più giovani sembrano più timorosi da questo punto di vista nelle sporsi questa è un'impressione adesso poi insomma andrebbe approfondito poi vabbè quello era un lavoro dove avevo raccontato anche in giro per l'Italia era una cosa simile grazie e scusate di questa roba infinita vorrei fare due domande una cosa ne pensa della terapia antiacida dei tumori dei tumori solidi insensolato un'altra perché il recettore R non si chiama epidermi growth factor receptor gioverebbe all'interdisciplinarità grazie per le domande che sono complicatissime ma io cercherò di essere all'altezza delle domande quantomeno allora la prima cosa è sulla terapia antiacida dei tumori io sono di estrazione se vogliamo galileiana credo nella scienza come fenomeno di riproducibilità la scienza è in continua evoluzione però deve essere riproducibile su larga scala in qualsiasi punto del pianeta indipendentemente da chi la fa e deve essere revisionabile non conosco non ho dei dati sul terapia antiacida nel tumore che abbia dei dati di fase 3 quindi secondo quella che è diciamo la medicina che io utilizzo che è quella degli studi esatto quindi non ho dei dati quindi sarei diciamo poco adeguata nella risposta quindi le dico non è il mio campo noi adesso siamo tra persone che possono permettersi di dire anche di cose molto nuove o promettenti senza come dire alimentare false speranze sul fatto della nomenclatura ma lei ha ragione guardi che le devo dire però in realtà poi diventa così per cui lei consideri che tutti i pay per qualsiasi cosa eccetera sono fatti con un'unica modalità di comunicazione ormai però ha ragione era chiedo alla dottoressa se dal punto di vista prognostico si dà più valore al grading rispetto al diametro del tumore e alla positività dei linfonodi per esempio un G3 è più grave rispetto diciamo a un T1 N0 è una domanda molto bella però anche qui bisogna vedere un po' quel sottotipo generalmente G3 più un come dire un fattore aggiuntivo cioè ho un tumore piccolo N0 guardi signora se esce tranquillo l'immunistochimica probabilmente faremo solo una terapia ormonale mi spiego meglio una signora di 60 anni che ha un tumore piccolo PT1C ok quindi 1,5 cm linfonodo sentinella negativo G3 G67 altino io proporrei anche solo la cura ormonale se fosse un tumore ormono responsivo perché in realtà sì è vero che G3 però da solo quell'elemento mentre invece l'elemento stadiazione cioè estensione anatomica ancora oggi caspita è una cosa importante ancora oggi c'è dire che c'è un tumore 5 cm linfonodi positivi bene vi ringraziamo ricordiamo che dovete fare le domande per recuperare gli ECM entro il giorno 14 Grazie.